Lasciare memoria delle classi quinte e tramandare un progetto che insegna i ragazzi a sentirsi parte di una comunità. È questo il senso del messaggio contenuto nel murale inaugurato alla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Pieve San Paolo. Un progetto in divenire per lasciare traccia di tutti i ragazzi che hanno frequentato la scuola. Ed è solo uno dei tasselli di un percorso molto più ampio che la primaria sta portando avanti da diversi mesi, nell'ambito del quale ha anche vinto un concorso nazionale promosso da Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. È all'interno di un percorso di sviluppo delle competenze sociali e civiche, come esercizio di democrazia partecipata fra gli studenti e nello stesso tempo la volontà di far crescere una comunità. In questo ambito si inserisce l'utilizzo delle tecnologie per la realizzazione di un gioco dell'oca, fatto di percorsi accattivanti e sofisticati, in chiave ambientale e sostenibile. I bambini hanno davanti a sé un obiettivo importante, salvare il mondo dall'inquinamento. Tra i tanti progetti è anche la realizzazione di una bandiera che rappresenta la scuola. I bambini hanno inventato la bandiera della scuola di Pieve San Paolo e i ragazzi che lasceranno la scuola elementare per andare alla scuola media hanno lasciato traccia di loro, un bellissimo murales che rimarrà qua, appunto traccia del loro percorso dentro questa scuola.